E per altri ragazzi sono il Giroback e sono qui oggi a portarvi un video importantissimo Infatti vi mostro quella che è la stella, il tesoro segreto di questa settimana qua Ovvero cerca tra un oasi, un arco di rocce e dei dinosauri Adesso si trova nella nuova parte deserta della mappa Vi sto mostrando adesso i tre posti indicati e poi al centro si troverà la stella segreta Io ve lo sto mostrando il giorno prima quindi non posso farvi vedere direttamente la stella Ma vi faccio vedere il punto esatto in cui esce Si verrà direttamente in quella roccia lì Tra poco mi butto, mi sto mutando adesso Ma vi taglio la parte in cui arrivo direttamente lì In modo tale che non stiamo qua a perdere troppo tempo Infatti raga vi ricordo anche di lasciare, di arrivare, cerchiamo di arrivare a Facciamo 60 likes, cerchiamo anche di arrivare verso i 5.000 iscritti Visto che ci manca veramente poco Si trova direttamente su questa roccia qua che vi sto mostrando in questo momento qua Non so il punto esatto perché non è stato ancora mostrato Visto che io sto registrando la sera prima che escano le sfide Quindi sono solo dei leaks E quindi non si sa il punto esatto Comunque lo troverete sicuramente cercando Magari guardando anche gli altri dove si trovano Nel momento in cui lo trovano Comunque lo potete trovare qua sopra o qua sotto Quindi non stai lì a perdere troppo tempo Lo troverete insieme agli altri Noi ragazzi direi che possiamo lasciarci Vi ricordo anche che sul canale ho caricato anche il video Dove mostro i luoghi dove ci sono i campi da basket Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao